Adesso ce la facciamo. È finita! È finita! È finita finalmente! Finisce qua. Inter batte anche l'Ipsia. 1-0, un autogol di Luqueba in una partita in cui l'Inter sicuramente non ha brillato. Avrebbe meritato però anche il 2-0 che è stato annullato. Non si capisce bene perché l'arbitro annulla questo 2-0 nel finale che ci avrebbe fatto chiudere tranquillamente una gara che invece si è chiusa con un pizzico di brivido finale. L'Inter vince, si porta a casa altri tre punti che vogliono dire primo posto in classifica nel girone di Champions in attesa del Liverpool che giocherà domani ma intanto l'Inter è prima. L'Inter vince e mette sempre più nel Mileno. Vede sempre più avvicinarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale di questa Champions League. Simo, un'altra prestazione non brillantissima di un Inter che nel finale è sembrata proprio quasi sulle gambe e non riusciva ad uscire. Turam è quello che è entrato meglio. Anche Carlos Augusto in realtà mi è piaciuto in questa gara. Ho letto tanti commenti negativi in questa prestazione. Mi aspettavo da parte dell'Inter oggi un'altra dimostrazione di forza dopo quella che c'è stata contro il Verona, contro l'Ipsia che oggi aveva tante assenze anche ed è in un momento molto delicato. C'è un po' la sensazione che l'Inter si adatti anche a quello che è il livello di difficoltà della partita e dell'avversario? Potrebbe, però è una cosa che mi piace poco nel momento in cui sei 1-0. 1-0 abbiamo visto nel finale. Non hanno creato una vera e propria occasione, ma quella palla lì mezza svirgolata su cui Di Marco deve salvare è sufficiente un errorino. È un po' quello che dicevano anche della Juve di Allegri, il solito discorso. Non mi fa impazzire come cosa. Ripeto, non so perché l'Inter nella ripresa non ha fatto praticamente nulla. Non so se sia una questione fisica o anche appunto di scelta. A questo punto della Champions mi viene anche da dire che comunque l'importante è portare a casa gli ultimi punti che mancano, che non sono pochi, però comunque ne hai già fatti 10 o adesso siamo a 13, quindi la cosa fondamentale è la vittoria. Oggettivamente è il secondo tempo molto brutto. Molto brutto perché non abbiamo creato letteralmente nulla tranne quel gol lì a cui facevi riferimento che è stato nullato. C'è stata l'occasione dopo 30 secondi subito con Dufres che si è mangiato un grosso gol. Però Simo, cioè, è un'altra di quelle partite in cui io non me la sento di parlare di sofferenza. La sofferenza è quando la Biosero ti crea tante occasioni di mancanza e di brillantezza, perché se poi la chiudi sul 2-0 con il gol di Dufres dopo 30 secondi del secondo tempo, è più che meritato. Sono d'accordo, infatti questo, se vogliamo, è il lato della medaglia positivo. Da inizio stagione diciamo che l'Inter prende troppi gol, soffre troppo, alla prima occasione viene colpita. Intanto siamo alla quinta partita di Champions con zero gol subiti e oggi, a parte l'occasione di Nusa, o di Open Dan, non ricordo, lanciato la Ciaranoglu, quindi di fatto l'abbiamo generata noi. Il Sommer non si è sporcato i guanti quasi, o comunque non ha fatto parate importanti. Quindi questo secondo me poi è la cosa che conta e sono d'accordo, sofferenza, praticamente nulla. Tra l'altro siamo l'unica squadra che non ha ancora subito gol in questa Champions League, visto che l'Atalanta lo ha subito. Io continuo a far vedere, ragazzi, una classifica dove, sì, il gioco, sì, io sento da tante settimane il funerale dell'Inter, però così non andiamo lontano, però così dove andiamo? Io continuo a guardare comunque i risultati. Questa è la decima vittoria con due pareggi nelle ultime dodici partite. E mi sembra, ecco, mi sembra di vedere un Inter che comunque di fieno in cascina ne sta mettendo parecchio. 13 punti conquistati in una serata in cui il Manchester City dal 3-0 si fa rimontare sul 3-3. Noi stiamo lassù davanti a tutti. Io, sinceramente, se me lo avessero detto all'inizio del sorteggio, non ci avrei mai creduto. No, esatto. Vedendo questi numeri, la cosa che stride più di tutte è proprio la differenza reti. Perché poi Liverpool deve ancora giocare, il Barca è ben sopra i 10, l'Atalanta è a 10, noi siamo a 7. Il Leverkusen oggi ha fatto 5 gol, quindi ha un po' recuperato e il Monaco deve ancora giocare. L'unica è quella che poi purtroppo può presentarti il conto alla fine delle otto partite. Però, cavolo, guardo la classifica, sono primo davanti a tutti gli squadroni europei. Mi sentirei anche un po' troppo, diciamo, cattivo nel stargli a dire no, però la differenza reti. Guardiamo prima il piatto forte, poi al limite guardiamo la ciliegina che manca, secondo me. Detto questo, Simo, le note positive di questa gara, il risultato. Ci prendiamo questo e poco altro. Non è una partita che andrò a riguardare tra qualche anno, non è una partita che consiglio di riguardare, ecco. A meno che uno non l'abbia vista. Le prestazioni di alcuni singoli. A me, Defray, è piaciuto molto, ancora una volta. Contro un avversario che poteva essere scomodissimo come Openda, praticamente lo ha quasi annullato. Sostanzialmente annullato. Anche Cesco nel finale fa un salvataggio a Defray che praticamente toglie un gol fatto nel finale. E il centrocampo mi è piaciuto. Detto che Ciala ha avuto alcuni momenti di blackout che non mi sono piaciuti, con quell'atteggiamento lì. Allora, ha avuto una prima fase di gara dove ha fatto dei recuperi palla, delle interdizioni che mi hanno veramente gasato. Poi in alcuni momenti mi sembra che quando sbaglia ci va con un pochino di sufficienza e quella cosa lì non mi è piaciuta. Mentre Barelli è stato veramente uomo ovunque e Zienischi, a me è piaciuto tantissimo. Zienischi è un giocatore diverso rispetto a Mkhitaryan. Quindi dobbiamo anche ricordarci di questo, secondo me. Quando andiamo a giudicare Zienischi non possiamo giudicarlo con lo stesso parametro di Mkhitaryan. Si è preso spesso la responsabilità di portare avanti il pallone, di guadagnare campo ed è la sua grande caratteristica. Forse ti aspetti qualcosina in più in zona gol, però oggi non era semplice. Poi in generale comunque io stavo ripensando, prima ti ho dato una statistica e dopo 15 minuti noi stavamo al 70% di possesso palla e 30% loro. Abbiamo conquistato, si era parlato tanto, l'Arsenal secondo molti ha fatto un partitone perché si è preso 14 calci d'angolo. Noi nel primo tempo ne avevamo presi tipo 8 in 30 minuti. Quindi il primo tempo, io in realtà più ci penso adesso che sto rielaborando la partita, è stato un ottimo primo tempo secondo me da parte dell'Inter in termini proprio di... E guarda caso è stato quando il centrocampo ha fatto la miglior partita. Quindi con questo centrocampo a livello top l'Inter ha dominato, il primo tempo ha controllato la gara e ha fatto piuttosto bene. Dall'altro lato è mancato l'apporto dell'attacco, dove secondo me oggi Turam con quel minuto finale dove si gasa e gasa il pubblico ha fatto vedere che in questo momento è su un'altra categoria rispetto a Taremi, rispetto a Arnautovic e anche rispetto a Lautaro. Eh purtroppo sì, ma purtroppo sì. A livello di centrocampo, infatti ripensandoci adesso nella ripresa, Cialanoglu fa un errore molto grave che lancia il loro contropiede. Barella, anche lui ha fatto una bella partita, però anche lui ha fatto un paio di errori rivedibili. Zielinski paradossalmente è quello che forse ha sbagliato meno a livello proprio di errori puri, però si è incalati di rendimento e è calata tutta la squadra. L'attacco oggi, terrificante, mi dispiace. Mi dispiace per entrambi perché io sono un sostenitore anche di Taremi, come sai, anche oggi ho fatto molta fatica. Era partito bene, mi ha ricordato l'inizio di Inter City, ma anche di Inter Stella Rossa, al di là dell'avversario, dove comunque si è fatto molto, si è sbattuto molto, recuperava palla, contrasti. Ero ottimista anche se fin da subito notavo che comunque lo noti lì e non sottoporta. Poi è andato lentamente spegnendosi. Dall'altra parte Lautaro, secondo me, ha fatto forse anche peggio. Cioè si è visto ancora meno, secondo me. E è preoccupante questa cosa, intanto perché se giocano così non funzionano in coppia. Cioè ti serve per forza uno diverso al posto di uno dei due, altrimenti mi ricordano i tempi quando Dzeko era in down fisico e con Lautaro avevamo questo problema che appunto non trovavi profondità e ti facevi quasi del male da solo. E idem qui. Non lo so, il tempo passa, siamo alle porte di dicembre, comincia ad essere sempre meno credibile il fatto di dire aspettiamoli. Quindi aspettiamoli, però a un certo punto dovranno pure arrivare questi ragazzi. Io comunque, Simo, faccio solo un'ultima osservazione perché poi a parte ne riparleremo in maniera più completa. Io comunque da questa partita, cioè se ripenso e ripenserò questa partita nel prossimo futuro, non posso far altro che dire, cavolo ragazzi, è un'altra vittoria, è una di quelle partite in cui, che ne so, negli altri anni ti presentavi contro gli Shakhtar di turno, i PSV Ndoven di turno, dicendo ci proviamo, proviamo a vincerla, eccetera, poi puntualmente non la vincevi. Qua ci presentiamo invece con la supponenza meritata per quello che abbiamo fatto in questi anni, nel percorso di dire, dobbiamo vincerla anche stradominando. Invece questa è la Champions, quindi ricordiamoci sempre questo, nonostante le difficoltà dell'Ips, del momento, eccetera, eccetera, è sempre una squadra che tra l'altro non meritava di perdere, né con la Juventus, né con l'Atletico Madrid, né con Liverpool, fino a qua. Quindi è una squadra che ha messo in difficoltà tutti e che non aveva nulla da perdere in questa partita, perché ha zero punti e quindi è un qualcosa che assolutamente va sottolineato e ricordato e ribadisco, questa è una partita la cui importanza, secondo me, la scopriremo e la peseremo tra qualche settimana, perché tu oggi hai messo altri tre punti che ti avvicinano all'obiettivo della qualificazione agli ottavi e adesso puoi fare un mese davvero focalizzato sul campionato, con dentro la partita con l'Everkusen del 10 dicembre, che comunque è molto importante, però comunque sei veramente ad un passo dagli ottavi di finale di Champions, che è il grande obiettivo, che ti tolgono due partite da giocare a febbraio e in più adesso puoi davvero focalizzarti sul campionato ancora di più di quello che hai fatto ora. Quindi i tre punti di oggi, questa partita più quella con l'Arsenal, a me ricordano molto, per peso, la vittoria per 1-0 sul Benfica dell'altra stagione, che era una partita che, come dicevamo, era fondamentale vincere perché avrebbe spostato l'asticella della qualificazione. Quindi questa volta che si giocano otto partite e non sei, Arsenal e Lipsia rappresentano, secondo me, quella doppia sfida chiave che hanno spostato di là l'asticella. Quindi è una vittoria che non convince, non lo so, non convince chi si aspettava di vincere 4-0 facile. Un Inter che comunque nel secondo tempo, per una questione di millimetri, non trova il 2-0, altrimenti avrebbe portato a casa la partita in ghiaccio, anche come è successo contro il Verono quasi. Sì, diciamo che dovremmo, secondo me, dovremmo essere un po' equilibrati, nel senso che in Champions conta molto, vabbè, in generale, questa è un po' una banalità, però quando hai un target di punti da raggiungere, alla fine il resto è contorno. Intanto porta a casa i punti in una competizione in cui si gioca tantissimo, in cui ogni avversario può crearti dei problemi. Dall'altra parte non possiamo ignorare un secondo tempo dove non siamo esistiti. Quindi nel calcio sappiamo che spesso poi è questione di un episodio, un mezzo palo che va dentro o che va fuori, o un mezzo contrasto che va dentro o che va fuori. Quindi abbiamo rischiato praticamente nulla, però comunque la ripresa è stata giocata malissimo. Quindi sicuramente il livello è stato alzato. Prima mi facevi riferimento a partite degli anni scorsi, oggi arrivi qui quasi pretendendo di dare tre peri all'Ipsia, come se fosse una cosa normale. Questo dà la dimostrazione del livello che abbiamo, abbiamo alzato in questi ultimi anni. Vediamo adesso a Firenze. Magari giocando una ripresa così, dove abbiamo penso anche speso relativamente meno energie, magari ci guadagniamo a Firenze. Se così sarà, per me va benissimo. Però lo scopriamo tra qualche giorno. E ci portiamo a casa. Altri due milioncini per questa vittoria. Altri punti nel ranking, come diciamo sempre, anche per il prossimo mondiale per club. Questi valgono come ranking. Ringrazio Ecci, che dice, bravi, sprecato tanto ma creato altrettanto. Perché sì, perché poi comunque, se tu domani vai a guardare gli highlights, c'è un possibile calcio di rigore, anche se era molto leggerino. L'occasione di Turam di testa, l'occasione di Dunfris, il gol annullato a Mkhitaryan per un eccessivo protagonismo da parte dell'arbitro e l'occasione di Lautaro con la girata col Mancino. Quindi mi sembra comunque una partita in cui l'Inter ha creato e ha creato eccome. Mattia, grazie di cuore. Certo, Correa e Palacios non sono in lista. Grazie Mattia che lo ha ricordato, perché più volte durante la serata sono stati chiamati in causa Correa e Palacios, che però non sono in lista e quindi non possono essere inseriti, non potevano essere impiegati in questa partita. Chiudo qua questa clip ricordando che su PassioneInter.club poi facciamo le nostre pagelle, come sempre a parte, poi arriveranno altri contenuti, quindi vi invito, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ad iscrivervi al nostro canale cliccando sul tasto iscriviti, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti.